con mister e jacobelli tecnico della san giovannese commentiamo lo 0 a 5 maturato quello stadio armando picchi in favore della formazione bianca azzurra una partita cominciata con insomma un po di occasioni da ambo le parti poi dopo il vantaggio da parte vostra la strada insomma la partita ha imboccato una strada molto precisa immagino sia soddisfatto di questo risultato di questa prestazione mister le lascio la parola sì dai sono quelle giornate che ti va tutto bene perché come dicevo prima ai tuoi colleghi o ai miei ragazzi se perdevamo 1 a 0 quel tiro che ha fatto milano nella fila e pigliava il palo e usciva fuori però era una giornata troppo positiva ma noi abbiamo fatto anche altre partite fuori casa molto bene anche a trestina secondo me anche a roma con monte spaccato quindi oggi è andato tutto bene come tiravamo pure però su quelle giornate che dai che ti va tutto bene le pigli una giornata insomma in cui è andato tutto bene probabilmente complice il lato bianco verde una settimana non difficile non so quanto conoscesse questo avversario come aveva preparato questa partita mister ma io ho visto le immagini di roma sicuramente a roma secondo me il primo tempo hanno fatto molto bene potevano anche andare in doppio vantaggio poi quando hanno subito il pareggio sono un po crollati a livello mentale sai poi nel calcio quando quando ti deve andare tutto bene ti va tutto bene ora è il momento che loro devono secondo me stare tranquilli e non perdere la testa io non voglio fare il fenomeno da dare consigli però ho giocato un po a calcio e quando perdi la testa dopo diventa non sai dubbio dove mette le mani invece una squadra che sa giocare a calcio ha giocatori importanti di qualità quindi in questi momenti qua devi stare solo zitto e pedalare e lavorare esattamente mister per quanto riguarda la san giovanese la seconda vittoria di fila peraltro senza subire gol se non vado errato sicuramente anche questi sono dati importanti è presto per guardare la classifica però vi mettete alle spalle l'avversario di turno e che dire no l'obiettivo nostro è quello quello di arrivare più presto possibile a 43 42 43 punti dove dovrebbe essere la cifra esatta per stare fuori dai play out come tutti gli anni però noi abbiamo anche tanti giovani bravi interessanti stiamo cercando di valorizzare e alla fine speriamo di ottenere sia la salvezza di portare avanti qualche ragazzo in categoria superiore ecco appunto anche in base alla sua esperienza e all'obiettivo stagionale della sua squadra che campionato è dal suo punto di vista che lettura ne dà fino a questo momento ma secondo me è molto molto calato rispetto agli altri anni perché se togli un po il gavorrano che è una buona squadra il san donato l'arezzo di quelle che ho incontrato io il resto c'è te la giochi con tutti se sei un po organizzato te la io tutti è tolta le 4 5 le altre se c'è molto equilibrio secondo me quindi mi sento come dicevo prima bisogna avere tanta pazienza tanta tranquillità io non solo l'obiettivo della del livone sorgenti però se stanno tranquilla la squadra che sono me può fare un buon campionato ben ringraziamo mister di arco bello e buon proseguimento di stagione